Ground Zero Channel è il canale di informazione a sfondo culturale dove puoi trovare centinaia di ore senza pubblicità in video dedicate alla cultura, interviste, documentari e rubriche prestigiose realizzate in totale indipendenza e lealtà. Il nostro impegno è realizzare una nuova pedagogia dell'intrattenimento e riappropriarci in forza dell'estetica che fin troppo nel mainstream è usata come arma di distrazione di massa. Per creare contenuti sono necessarie molte risorse. Chiediamo quindi il tuo sostegno. Se vi piace il nostro lavoro e desiderate contribuire potete aiutarci con una donazione tramite Paypal, Patreon o bonifico bancario. Partecipa con noi alla ricostruzione da zero. Da zero.